Grazie Mano, grazie Andrea. Che relazione c'è fra utopie e desiderio? Cosa c'entrano? Beh, qualcosa è già affiorato. L'isola dei poeti, la congiura dei poeti di Tiziano Terzani, il desiderio di avvertura di Pietro del Soldà, forse anche un centro di gravità permanente, visto che è stato evocato Franco Battiato. Però la nostra idea di utopia soffre nel nostro tempo di una serie di pregiudizi che ci portiamo dietro da tempo immemore, direi sostanzialmente da tutto il Novecento e che hanno modificato profondamente la nozione di utopia rispetto a quando questa nozione è nata. Allora proviamo prima a nominare questi pregiudizi per liberarcene, proviamo poi a ritornare alla definizione originaria di utopia e a domandarci in che rapporto stia quella definizione originaria data, come sapete, da Tommaso Moro nel 1516 con il desiderio. E poi vorrei provare a dare anche alcune caratteristiche, alcuni elementi irrinunciabili che si trovano nella nozione di utopia, in particolare come è stata pensata e raccontata da Tommaso Moro, per vedere che cosa dice a noi oggi l'essenza dell'utopia, in rapporto al desiderio naturalmente. Allora, i pregiudizi. Il primo pregiudizio che si forma ed è potente nella nostra cultura, a proposito della nozione di utopia è un pregiudizio negativo nei confronti dell'idea di utopia, è l'idea che si tratti dell'idea di un mondo impossibile, basato su desideri così superficiali, su un'immagine anche avventata di una società perfetta, ideale, perfettamente funzionante, che io nella mia testa, nei miei sogni borghesi proietto sullo scenario della storia. Un'immagine di questo tipo, un'idea di questo tipo è soltanto appunto la proiezione dei miei più superficiali desideri che appattengono alla mia classe sociale. Ora, dicevano Marx ed Engels, questo è quello che hanno fatto gli utopisti come Saint-Simon, come Fourier, come Owen, che hanno dato voce all'idea di una società ideale secondo i desideri della loro classe sociale di appartenenza. E mettendo tra l'altro in quella idea di società perfetta anche molto wishful thinking, cioè semplicemente un sogno ad occhi aperti senza nessuna, e questa era la vera critica di Marx e Engels senza nessuna analisi della situazione storica reale, della situazione economica reale, dei rapporti di produzione. Così nel manifesto del Partito Comunista, Marx e Engels sferrano un attacco diretto, feroce, a Owen, a Fourier, a Saint-Simon, dicendo costoro non solo sono dei borghesi che si sono invaghiti delle proprie idee, dei propri desideri, ma in più non hanno analisi, non sanno di cosa stanno parlando. La società che dovrebbe tradursi in utopia nei loro progetti, Owen era un imprenditore che crea delle piccole industrie utopiche nelle proprie fabbriche e poi esporta il modello. Questo modello in realtà non parte dalla critica profonda dei rapporti di produzione, sono tutti dentro ai rapporti di produzione esistenti e quindi immaginano semplicemente la replica di ciò che già c'è, una replica edulcorata. Questo è il primo giudizio. Un secondo giudizio che riguarda il nostro modo di pensare all'utopia oggi è quello che deriva dalla grande tradizione che nel Novecento è esplosa, della distopia. La parola distopia è una parola coniata da John Stuart Mill durante un dibattito parlamentare, in cui John Stuart Mill dice, sulle orme anche del suo maestro Jeremy Bentham, quello che immaginano i conservatori, nel Parlamento lui era un liberale, quello che immaginano i conservatori come società che vogliono proporre ai cittadini inglesi in realtà è una cacofonia o forse dovremmo dire una distopia. C'è una cosa che è troppo brutta persino per essere desiderata. Che cos'è questo? Quello che noi abbiamo visto nella letteratura soprattutto, nella letteratura distopica. Noi di Evgeny Ziamyatin, Brave New World di Aldous Huxley, 1984 di George Orwell, società che si pretendono e si presentano come perfette, che sono il parto di operazioni ingegneristiche, di ideologie che si proiettano in strutture istituzionali rigide, che ammorbano l'aria, che riducono al minimo la libertà personale o la cancellano del tutto e creano società perfettamente funzionanti ma come mere macchine, come meri ingranaggi. Ed è quello che abbiamo visto, soprattutto di questi tre romanzi che ho citato, noi di Ziamyatin è forse quello un po' meno noto, anche se è molto noto. Aldous Huxley ha quell'immagine molto inquietante per il tempo in cui scrive che a noi oggi suona molto, che è quella della generia genetica che prefigura le classi A, Alfa, Beta, Gamma, Delta dei cittadini che vengono poi condizionati dalla lipnopedia, che è questo messaggio ripetuto notte e giorno, io sono felice, io sono felice di fare il più umile dei lavori, io sono felice di occupare la mia posizione nella società e dimentico naturalmente le strutture sociali di nuovo, oppressive nelle quali mi trovo. Allora quello che risulta un po' da questi due pregiudizi che sono dei giudizi sull'utopia è che non ci dobbiamo troppo fidare di chi ci propone un'utopia, che o è qualcuno che sogna o è qualcuno che peggio ha un progetto totalitario. E allora è così? E dobbiamo abbandonare in qualche modo l'idea dell'utopia come appunto pericolosa, se non diciamo innocua ma fondamentalmente inutile. Penso che per capire questo, per domandarci se ancora la parola utopia ha un senso per noi e che rapporto ha con il desiderio, dobbiamo tornare a chi l'ha inventata e cioè proprio a Tommaso Moro. Intanto partiamo dal nome, Tommaso Moro ovviamente non dà una definizione di utopia, utopia è una narrazione, non è una narrazione in seconda persona, cioè un navigatore, un navigatore che si chiama Raffaele Itlodeo, la parola letteralmente significa chiacchierone, Itlodeo significa colui che parla tanto e avambera. Questo navigatore viene presentato da Peter Gill che è amico di lunga data di Thomas Moro ad Anversa durante una missione diplomatica, viene presentato a Tommaso Moro e quando Peter Gill lo presenta dice costui certo è un navigatore, Moro aveva già riconosciuto i tratti del marinaio, ma costui ha navigato non come Palinuro, piuttosto come Ulisse o meglio, per meglio dire, come Platone, cioè un viaggio filosofico. Questo svela, un po' smaschera la finzione narrativa, la finzione narrativa è che invece Raffaele Itlodeo ha navigato realmente con Amerigo Vespucci, è stato nelle terre nuove, nel nuovo continente e ha attraversato probabilmente l'America del Sud e poi si è imbarcato su una nave che lo ha portato in un'isola dove lui ha trovato istituzioni, come lui racconta, da cui noi avremmo molto da imparare. Non istituzioni perfette, attenzione, questo è un primo avviso. Questa isola in particolare, che non è un'isola piccola, attenzione, non è un isolotto nel Pacifico, è un'isola delle dimensioni dell'Inghilterra in cui ci sono 54 città che sono come le 54 contee dell'Inghilterra del tempo di Thomas More. Questa isola, quindi una isola che ha la dimensione di uno stato-nazione moderno, non la cittadina, non la polis ideale, il modello platonico, no, no, è qualcosa di molto più complesso. Questa isola si chiama Utopia, naturalmente appunto è un nome, quindi non è un concetto. Quando Thomas More scrive Utopia, Utopia è solo un gioco linguistico ed è un nome, non è un concetto. Per noi Utopia si scrive con la minuscola perché è diventato un concetto, ma per Thomas More si scrive con la maiuscola perché è un nome, ed è un nome bizzarro. È un nome che deriva naturalmente dal greco, Utopos. Ora, Utopos significa luogo, ma Thomas More è un fine grecista e latinista, un umanista, amico di Erasmo da Rotterdam, gioca su questa, sulla radice, Utopos la lascia così com'è. Vuol dire, lui vuole indicare un luogo che non c'è, ma anche un luogo buono, un luogo in cui le persone vivono bene, nella giustizia, nell'eguaglianza, nella libertà e in modo sostanzialmente felice, individualmente e collettivamente. Per dire questo, se avesse rispettato la morfologia della lingua greca, per dire il non luogo, Thomas More avrebbe dovuto scrivere atopia, luogo che non c'è, luogo che non ha luogo propriamente, luogo che la negazione si dà con l'alfa privativo, come si dice. E invece sceglie utopia, e notare sceglie u e basta, e questo gli consente di ambiguamente rimandare a due prefissi diversi che sono outopia, cioè non luogo, e eutopia, cioè buon luogo. Formalmente non poteva farlo perché ou andrebbe davanti a un verbo, non a un sostantivo, ma non importa, questa è la genialità. Rompo la regola della morfologia greca e mi invento questa felice ambiguità. Dunque, prima definizione di utopia che si trova in Thomas More è il luogo che non c'è ma è un buon luogo, dunque è un luogo che dovrebbe esistere. E altra finzione che viene insieme al nome, il racconto di Raffaele Itlodeo è un racconto realistico, lo dirò ancora fra poco, il luogo esiste. Il luogo si chiama non luogo, o buon luogo come volete voi, ma il luogo esiste. Dunque è un paradosso. Notate anche, e questo è un altro elemento cruciale, Tommaso Moro quando conia il termine utopia non sta parlando del futuro, non sta parlando di una città che ci sarà in un momento della storia in cui tutto si compirà. Quella è l'escatologia se volete, quella è la profezia se volete, ma l'utopia è un luogo che esiste ora, solo che è da un'altra parte. È l'altro luogo. È l'alternativa al luogo in cui noi viviamo. Questo è il primo messaggio. E su questo tornerò a far breve, perché la molla del pensiero utopico è l'alternativa. Ciò che non c'è, ciò che qui non c'è. E possiamo definire un luogo utopico, le sue caratteristiche, le sue istituzioni, il suo modo di vivere, le sue relazioni solo a partire dal luogo in cui ci troviamo per negazione di ciò che vediamo, di ciò che non ci piace, di ciò che è contrario al nostro desiderio. Quale desiderio? Allora, rispetto a Tommaso Moro, su cui tornerò naturalmente, c'è una definizione di utopia che a me piace particolarmente e che è stata fornita da Martin Buber in un libro meraviglioso che si chiama Sentieri in utopia. Questa definizione è molto semplice e fa pensare nella sua semplicità. Lui dice che l'immagine utopica è un'immagine di ciò che deve essere, di ciò che colui che immagina desidera che sia. Quel che domina qui è la nostalgia per ciò che è giusto, che viene sperimentato nella visione religiosa o filosofica come rivelazione o come idea e che per la sua essenza non può realizzarsi nel singolo, bensì solo nella comunità umana in quanto tale. Allora, questa definizione che poi torna nel testo di Buber, torna nella forma di un vocabolo tedesco molto evocativo. Lui dice utopia, come già ricordavo anche poco fa, è un'immagine, anzi più propriamente è una Wunschbild. Wunsch è desiderio. Quindi una immagine del desiderio, una Wunschbild. L'utopia è l'immagine del desiderio di giustizia. Questo è il punto. Buber coglie, secondo me, in maniera precisa l'istinto che ha mosso l'intuizione geniale di Tommaso Moro. Proviamo a scavare in quell'intuizione. Nella redettura di Tommaso Moro che ho fatto sia per questo libro sia per la nuova edizione, una nuova edizione critica dell'utopia di Tommaso Moro con il testo latino a fronte. Mi sono accorto di avere che utopia è molto diversa dalle utopie successive. È molto diversa l'utopia di Moro da quella di Campanella, La città del sole, è molto diversa dalla nuova Atlantide di Bacone, è molto diversa dal viaggio in Icaria di Etienne Cabè e così via. La letteratura utopica è diventata un genere, ma il modello originale è rimasto ineguagliato. Che cosa sono, quali sono le caratteristiche del pensiero utopico in Moro e credo anche per noi rilevanti. Prima caratteristica, la utopia in Moro è un pensiero critico. Utopia è composta di due libri. Il secondo libro è nella narrazione dell'isola felice e giusta. Il primo libro è un attacco feroce all'Inghilterra del suo tempo. È un attacco ai landlords e alle enclosures, cioè a quella situazione in cui improvvisamente dal regime feudale i vassalli si impossessano del territorio, del terreno e anziché coltivare e far coltivare la terra per dare da mangiare ai feudatari, agli abitanti del feudo, trasformano tutte le terre in pascolo per far pascolare le pecore e vendere nel mercato globale che stava nascendo in quel momento la lana che va in Olanda e poi viene commercializzata in tutto il mondo. I landlords si appropriano della terra in una forma di protocapitalismo che diventa poi la chiave di volta per un possesso di tipo economico, un dominio di tipo economico che sradica la vita dei contadini, sradica la vita delle comunità, per cui i contadini si trovano a vagare fra le terre e poi magari vengono uccisi, impiccati con una corda d'oro per aver ucciso un cervo nel parco del re, come ci ricorda Fabrizio D'Andrea. Allora questo primo elemento è la critica, utopia muove, come dicevo anche prima, dalla critica radicale di ciò che non va ora, di ciò che adesso non è tollerabile, di ciò che per ora siamo costretti a subire e che però vorremmo cambiasse. Secondo elemento, l'utopia si muove in modo non narrativo, è vero che l'utopia si presenta come un'opera letteraria, c'è il racconto dell'incontro con Raffaele di Tlodeo e c'è il racconto di Tlodeo della vita degli utopiani, ma il racconto della vita degli utopiani non è un romanzo, chi legge utopia pensando di trovarci una bella storia casca male, il modo di esposizione, lo stile espositivo è quello documentale, è una testimonianza, Raffaele di Tlodeo testimonia che questi abitanti, che sono uomini come noi, anche su questo tornerò fra poco, vivono bene, hanno buone istituzioni, istituzioni ugualitarie in cui c'è una rappresentanza di ogni gruppo, che sono gruppi familiari, c'è un riconoscimento delle individualità, non c'è una uniformità, tutti lavorano nei campi, ma non più di sei ore al giorno, per il resto sono liberi di fare le occupazioni che preferiscono, condividono i pasti, non c'è ovviamente moneta, non c'è commercio, c'è solo scambio dei beni fondamentali. Questa vena documentale è quello che fa il genere, il genere letterario dell'utopia non è un genere appunto narrativo in senso stretto. Terza caratteristica, l'utopia di Moro è un'utopia razionale, il pensiero utopico pensa non in maniera acefala, non proietta una semplice fantasia e questo anche qui Buber lo capisce molto bene, lo dice molto bene, in un passo in cui ricostruisce il modo in cui avviene l'immaginazione utopica. Il pensiero utopico è un pensiero immaginativo, ma non è un pensiero privo di vincoli, è un pensiero che deve pensare una società che funziona, è un pensiero immaginativo, ci si deve proiettare in quella società come se fosse un viaggiatore. Si scoprono le istituzioni, si scopre lo stile di vita, ma non si sa quali sono i principi su cui si fonda quella città, lo si scoprirà solo dopo. Così deve funzionare il pensiero utopico, immagina una società che funziona bene, proiettati in essa, vivi in essa. Il Trodeo vive cinque anni a utopia e quando torna è in grado di dire quali sono i principi su cui si fonda, ma il processo non è dai principi all'applicazione, come accade in Platone invece. Il processo è contrario, dall'immaginazione ai principi. Pensa a una società che funziona bene e allora capirai quali sono i principi su cui si fonda. E questo vincolo è un vincolo razionale, perché non è meno razionale partire dal particolare e andare all'universale che non fare viceversa. Scrive Martin Buber, si è soliti in genere descrivere tali immagini come prodotto dell'immaginazione, ma con ciò si dice ben poco, perché questa immaginazione non divaga, non viene sospinta qua e là da ispirazioni mutevoli, ma va concentrandosi in maniera solidamente strutturata intorno a un'immagine prima e originaria, che dovrà elaborare. E questa immagine prima è un desiderio, appunto il desiderio di giustizia. Quarta caratteristica, lo accennavo prima, l'immaginazione utopica non è un'immaginazione né fantascientifica né favolistica. Gli umani di utopia sono umani normali, non sono gli umani dell'Atlantide del Crizia platonico, che sono dei semidei e che hanno poteri straordinari, non sono gli umani che inventano il volo a vela come nella città del sole di Campanella o le navi a motore. No, no, la tecnologia degli utopiani è ridicola, non conoscono la stampa. È il Tlodeo a portare i libri a stampa e loro subito cercano di imparare come farli. Non conoscono la bussola, non sono superuomini, commettono errori. È previsto il divorzio a utopia, perché le famiglie qualche volta si sfasciano. dunque è previsto anche un sistema penale. Dunque non si tratta di uomini perfetti, sono uomini quali noi siamo, solo hanno avuto la fortuna, l'occasione, l'opportunità di costruire istituzioni che funzionano, in cui si pratica la giustizia, in cui c'è il riconoscimento del ruolo di ciascuno, in cui lo scambio dei beni è in realtà lo scambio della vita in comune. Dunque il realismo, il realismo utopico, ecco cosa noi abbiamo perso. Una delle cose che abbiamo perso è pensare che l'utopia sia un'immaginazione realistica di una società ben funzionante. Noi abbiamo ereditato l'idea che appunto l'utopia sia una fantasia, una fantasia borghese per di più. Fanno un po' torto Marx e Engels, forse non a Saint-Simonowen e Fourier che in qualche modo rientravano in quel cliché, ma non Tommaso Moro. Infatti uno che se ne accorge subito è Karl Kautsky. Karl Kautsky poco dopo che anche Engels riprende questa sorta di bando contro l'utopia, pochi anni dopo pubblica un grosso libro dedicato interamente all'utopia di Moore e dice che Moore è stato il primo vero comunista. Naturalmente le sue sentizioni non tenevano conto di alcuni elementi forti, scientifici, sociali, ma l'idea di giustizia che lì c'è, di eguaglianza, di libertà, di condivisione, quella è un'idea forte. Dunque forse di quel pregiudizio possiamo liberarci e tornare a nobilitare il pensiero utopico. Non è stato solo Kautsky a farlo, dopo di lui è Hans Bloch, lo stesso Martin Buber. Il pensiero utopico è potente nella tradizione sociale. Ultima caratteristica. Il pensiero utopico ha un rapporto complesso con il tempo, ha un rapporto prospettico. Allora come dicevo la genialità di Tommaso Moro è quella di collocare utopia non nel tempo ma nello spazio. Il tempo è ora, ma quell'ora è un monito per noi. Quell'ora è questo è ciò che potresti essere, non dovresti, attenzione, anche questo è importante. L'utopia degli utopiani è la società che a loro è capitato di riuscire a costruire ed è una società che funziona bene. Forse possiamo ispirarci ad alcune delle loro istituzioni, dice Itlodeo e lo dice anche Tommaso Moro nel concludere. Ma in realtà ognuno di noi ogni tempo deve scrivere la propria utopia. Ogni tempo scriverà un'utopia diversa, dando voce alle critiche del tempo presente e dando voce al desiderio di giustizia presente, che è un desiderio diverso, i desideri cambiano nella storia. Il nostro desiderio di giustizia ha una forma diversa dal desiderio di giustizia che muove Tommaso Moro a scrivere quell'opera. Dunque che rapporto c'è con il tempo? Il rapporto è di un presente che ci ispira, ci lancia, ci chiede di pensare il futuro. E è su questa nota che vorrei chiarire l'altra critica, quella fantascientifica, distopica dei romanzi del novecento. I romanzi del novecento hanno dato voce alla paura che il futuro sia terrificante. E questo è una possibilità. Ma più noi pensiamo il futuro in termini terrificanti, più questa è una profezia che rischia di autoavverarsi. Più noi cerchiamo di pensare il futuro come ciò che scaturisce da un presente in cui le possibilità di bene, di giustizia, di riscatto, di cambiamento ci sono e devono esserci, più il futuro può assomigliare a qualcosa che ricorda quell'immagine del desiderio di giustizia. Il novecento è stato attraversato anche da correnti filosofiche che hanno decretato la fine della filosofia, la fine della storia, la fine del pensiero, la fine del linguaggio. E cosa resta a noi se tutto questo che è lo strumento elementare del nostro esistere è dichiarato finito? Non ci resta nulla perché il tempo è chiuso qui. Ora il pensiero utopico è esattamente il contrario, è la reazione. Questa chiusura è una chiusura inaccettabile, questa chiusura è una chiusura che ci toglie le energie. Le toglie a tutti, non le toglie soltanto ai giovani che naturalmente vivono di futuro, ma le toglie anche a chi ha più anni perché il futuro è sempre ciò che si spera e se il futuro non è aperto alla possibilità che il desiderio di giustizia abbia qualche chance. Ora perché abbia qualche chance di realizzarsi o di avere per frammenti, io qui non ho il tempo di sviluppare quest'idea, ma ci sono delle cose che nell'utopia di Moro non possiamo noi riprendere. Per esempio Moro pensa che l'utopia sia un'isola separata dal continente con pochissimi contatti con il continente e con gli altri paesi. Noi non possiamo pensarla così, noi siamo in un mondo che è fortemente globalizzato, è fortemente interconnesso, la pandemia ce l'ha dimostrato come nessun'altra cosa al mondo, ma c'è un'altra cosa che noi non possiamo fare. Moro riesce a pensare a uno Stato che ha una dimensione di uno Stato nazionale, come ho detto però è uno Stato. Come si fa a pensare in termini globali la giustizia, la felicità, il bene, le buone istituzioni, con un super Stato mondiale, però proprio di no. Forse con una federazione cosmopolitica di Stati come sognava Kant, quello forse sì, ma siamo ben lungi da quel traguardo. Possiamo pensare però per frammenti. L'utopia contemporanea è un'utopia frammentaria. Questo sogno, questa idea, un certo modo di muoversi, che stiamo raggiungendo e che stiamo cominciando a mettere in piedi, che ci consente di ridurre il danno che noi facciamo a questo pianeta, un certo modo di produrre, un certo modo di interagire. Questi sono frammenti, non c'è una visione unitaria. Se io devo descrivere qual è il testo più utopico del contemporaneo, direi che sono i 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Quello è utopico. Andate a leggerli. Non c'è soltanto la sostenibilità ambientale, la protezione delle foreste, la protezione dell'ambiente. C'è una cosa piccola piccola come la pace, una cosa piccola piccola come l'eguaglianza fra i generi, una cosa piccola piccola come l'educazione e la formazione per tutti, una cosa piccola piccola come buona cooperazione per l'innovazione fra gli Stati. È un'agenda utopica, assolutamente utopica. Però è un'agenda che, con una giusta intuizione, le Nazioni Unite hanno posto come obiettivo, come compito, come aspirazione. Basta solo questo. Basta solo che sia presa come un'aspirazione a cui non vogliamo rinunciare. Ed è esattamente questo anche ciò che muove Tommaso Moro. Tommaso Moro che lotta tutta la vita per un governo che sia rispettabile, che lui ha fatto lo sceriffo a Londra per un certo periodo, che voleva dire anche fare l'avvocato delle cause e soprattutto della parte più debole della popolazione. L'ho fatto pare in maniera molto appropriata, molto forte. Ne parla anche William Shakespeare nel dramma Thomas Moro, non uno dei più bei drammi di Shakespeare. Però lì si vede, lui interviene a sedare una rivolta, ma evitando che i rivoltosi venissero puniti. Allora questa immaginazione è, come dire, sempre al di là del realismo eccessivamente riduttivo e rinunciatario a cui tutti ci invitano troppo spesso. Il coraggio di pensare utopicamente vuol dire il coraggio del sacrificio, perché poi è così che finì Tommaso Moro. Come sappiamo, consulente di Odeico VIII, quando poi si rifiutò di firmare il Supremacy Act, dopo anni in cui era stato anche cancelliere dello scacchiere del regno, Enrico VIII di fronte al rifiuto di quella fira, un rifiuto dato in coscienza, lo imprigiona nella Torre di Londra e dopo alcune settimane lo fa decapitare. Allora, questo è niente meno che il pensiero utopico. Cioè la disponibilità a immaginare, a desiderare e se è il caso, a sacrificarsi. Grazie.